Effettivamente è una vittoria, aiuta a vincere. Una partita, anche se era già stato chiuso il discorso all'andata, una partita che serve a noi, ma anche a Barretta penso come allenamento per indicazioni. Che risposte ha avuto dai suoi ragazzi? Ha anche operato delle variazioni rispetto alla formazione base? Sì, erano i ragazzi che avevano giocato un po' meno, l'indicazione è che non esistono titolari e tutti quanti sono alla stessa altezza, infatti la prestazione è stata eccellente. Domenica si torna a giocare in campionato, si va in trasferta, una trasferta sulla carta non semplice? Sì, trasferta da Otamura, una delle pretendenti al campionato, sarà una partita ben difficile, ben dura, sicuramente sarà da prendere con le pinze, cercheremo di mettere i coltroni tra i denti e giocarci. Capitolo mercato, Audacia ancora attiva? No, probabilmente arriverà un altro ragazzo, naturalmente sono tutti ragazzi molto giovani, 97-98, sono i più anziani, ne abbiamo 3-4 grandi, per il resto puntiamo molto sui ragazzi, anche perché la forza della società è quella, però cerchiamo di prendere i migliori che ci sono in giro.